Ai nastri di partenza la prima edizione della 100 miglia della Calabria che vede la città di Cosenza come tappa conclusiva. Il prossimo 5 settembre la carovana di auto d'epoca provenienti da diverse regioni d'Italia partirà dallo stretto per risalire fino a Cosenza dove ci sarà una sosta abbastanza lunga per godersi la città. La manifestazione patrocinata dall'amministrazione comunale ha come sottotitolo un dono per la vita per la sua forte connotazione sociale. In questo progetto abbiamo associato la donazione degli organi per cui il ricavato da questa manifestazione verrà data all'associazione italiana trappiantati di fegato. Il cappello è la solidarietà, la donazione, il trappianto degli organi. Questo è un numero zero che è destinato ad avere una progettualità che ha come obiettivo anche quello di far conoscere la Calabria in tutti i suoi percorsi per cui ogni anno verrà organizzato un tour di 100 miglia della Calabria che è un logo, un timbro che appartiene alla Calabria e speriamo che possa diventare come la mille miglia famosa. Una grande operazione di marketing territoriale che farà conoscere ai tanti equipaggi e non solo le bellezze della Calabria. Si parte da Reggio passando per Tropea e poi Cosenza, una bellissima città e gli equipaggi avranno la possibilità di conoscerla nelle sue bellezze storiche, artistiche e culturali, tanto la città vecchia quanto la città nuova, uniti ovviamente ad un discorso anche enogastronomico.